Debutto peggiore non ci poteva essere per un Campobasso targato nuova proprietà fondo inglese Circelli che si fa travolgere da una Sangiustese che non sbaglia praticamente nulla. Arbitra il signor Leone di Barletta in una giornata estiva i Rossoblumo Lisani sono seguiti da un centinaio di tifosi che intendono omaggiare la memoria di Luca, ragazzo modenese ed appassionato del Campobasso strappato alla vita a soli 34 anni lunedì scorso. Inizio shock da parte Campobassana, solo due minuti per il lancio di Perfetti all'indirizzo di Argento pallonetto toccato da Sposito che tuttavia non riesce ad evitare la capitolazione. Nessuno del Campobasso protesta più di tanto per la posizione del marcatore della Sangiustese. La replica della squadra di Mandragora arriva solo due minuti dopo con un gran tiro di Giacobbe ben parato da un Chiodini molto attento. Marchigiani avanti anche al sesto quando Perfetti mette al centro dove c'è un contrasto fra Locca ed Herrera giudicato regolare dal direttore di gara. Il Campobasso fatica a sfondare la retroguardia avversaria. Al ventunesimo il tiro da fuori di Improta non spaventa Chiodini. Al ventitresimo Marchigiani teoricamente sul 2-0 Marfella fa quello che vuole palla al piede prima di un tiro cross deviato in gol da Chedira. Praticamente però si rimane sull'1-0 per offside dello stesso attaccante di casa. Barlumi di Campobasso un minuto dopo con Improta che cerca la precisione. Si tuffa Chiodini ma la palla rotola a lato. Campobasso vittima di un approccio molto negativo. Al venticinquesimo Diop sbaglia la misura del passaggio. Se ne va che dira che sfiora il raddoppio con un tiro cross al veleno. Al ventottesimo da cross Dida Dalt raccoglie Minchillo che conclude non troppo pulito con respinta di Chiodini. Difesa rosso-blu di sale al trentunesimo quando Danucci appoggia a Delprete il quale perde decisamente il duello con Herrera. Chiede un fallo che non c'è nulla. Poi l'opposizione di Allocca cross con inaudita facilità da parte di Herrera prima che Chedira insacchi come un gioco da ragazzi. Il gol del raddoppio. Il Campobasso cerca di farsi pericoloso con l'inzuccata di Improta. Al trentacinquesimo su cui Chiodini si tuffa a dovere. Deve passare un solo minuto per il gol che potrebbe ridare speranza ai Campobassani. Lancio profondo in verticale di Danucci. Patrizzi prima sfiora poi appoggia corto a Chiodini ma non fa i conti con Improta che è lì. E segna all'esto l'1-2. Sconcertante però come il Campobasso rimanga immobile anche al trentottesimo quando Camillucci riesce ad appoggiare a Herrera destro e gol senza che nessuno dei rosso-blu ospiti provi ad ostacolare la manovra casalinga. Il primo tempo di un Campobasso schierato malissimo culmina al quarantaquattresimo con il poker locale cross di Pezzotti stacca Dorsi. Va argento che segna con grande disinvoltura la propria doppietta di giornata. I molisani sono frastornati e l'intervallo viene visto quasi come la fine delle sofferenze. I locali sono al settimo cielo. Qualcuno in tribuna, tifoso della San Giustese, quasi non crede ad una squadra di casa così brillante. Mandragora decide quattro cambi nell'intervallo. Fuori del prete Dorsi, Dadalte e Minchillo. Dentro D'Angelo, Sec, Tommasini e Branischi. Al decimo la manovra rosso-blu ospite con Branischi che appoggia a D'Angelo il cui tiro è letteralmente parato da Marfella. Penalti netto e ammunizione per il 2 di casa. Il calcio di rigore viene trasformato con grande freddezza da Branischi che invita i suoi compagni a crederci. La San Giustese non si scompone. Anzi, al dodicesimo il tiro al volo di Pezzotti viene ben deviato da Sposito. Un minuto dopo Mandragora termina i cambi con l'ingresso di Spinelli al posto di Antonelli. Difesa completamente rivoluzionata, fatta eccezione per Allocca. Al calcio di rigore segnato non fa seguito alcun forcing da parte molisana. i locali dal loro canto sfiorano il pocherissimo al ventinovesimo con un contropiede orchestrato da Camarà. Neo entrato che allarga perché Dira che spara alto sopra la traversa. Al trentasettesimo passaggio sbagliato da Tommasini, Campobasso spaccato in due, perfetti recupera. E va a concludere di un soffio alto. A fine gara attimi di tensione fra i due allenatori. A mente fredda, Mandragora chiede scusa alla piazza per risultato e prestazione senigallesi si gode un inizio super da parte dei suoi.